Ciao cari spettatori, benvenuti sul mio canale. Ci sono nubi scure sul suo matrimonio con il famoso attore Engin Akiures. Tuba Bujukustun è uno degli argomenti più discussi ultimamente nel mondo delle riviste. Questa volta, una dichiarazione emotiva di Engin Akiurek sul futuro della coppia ha sorpreso tutti. Nonostante le voci sul loro divorzio da molto tempo e la crisi del loro matrimonio, Engin Akiurek in un'intervista ha impressionato profondamente tutti con la sua dichiarazione che non divorzierà da Tuba e non potrà lasciarla nemmeno per un giorno. Questa affermazione rivela la determinazione di Engin nonostante i disaccordi tra la coppia. Affermando che continuerà a lottare per salvare il suo matrimonio, il famoso attore ha espresso con parole sincere quanto sia profondo il suo amore per Rajet Agba. Ecco i dettagli dell'evento che ha suscitato scalpore nel mondo dei magazine dopo queste emozionanti dichiarazioni. Engin Akiurek e Tuba Buyukustun sono una coppia conosciuta da anni per la loro sintonia nei progetti a cui prendono parte insieme. Mentre il loro lavoro, che ha stabilito una convivenza non solo nella vita lavorativa ma anche nella vita reale, ha deliziato i loro fan, la loro relazione è stata vista da molti come una storia d'amore. Il loro matrimonio è diventato ancora più significativo con i loro figli. Grazie a tutti per aver guardato il mio video. Arrivederci, ci vediamo nei nuovi video.